Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, questa mattina all'ospedale San Donato di Arezzo un'aggressione alla personale amministrativo. Un'aggressione dentro l'ospedale San Donato di Arezzo è successa. Intorno alle 11.30 riferiscono fonti sanitarie presso lo sportello di accettazione della radiologia dell'ospedale Aretino. Un uomo ha aggredito il personale amministrativo che era impegnato nella consegna dei referti. Sul posto è intervenuta la vigilanza e altri operatori che sono intervenuti per fermare l'uomo. Quest'ultimo avrebbe prima inveito contro l'operatore che lo aveva invitato ad attendere e poi lo avrebbe aggredito fisicamente. Sul posto anche gli agenti della polizia del presidio ospedaliero che hanno preso le generalità dell'uomo. L'operatore è aggredito e è stato trasportato in pronto soccorso. L'azienda ASL Toscana Sud-Est si legge in un comunicato ufficiale Nel ringraziare il personale sanitario di vigilanza e la polizia per il pronto intervento si riserva la possibilità di presentare formale denuncia. Numerose anche le aggressioni, soprattutto verbali, sui mezzi di trasporto pubblici. C'è bisogno di più controlli secondo i sindacati che lanciano un appello al prefetto. Ultimamente un nostro dipendente di Autolinea Toscana ha avuto un'aggressione fisica ricevendo una testata in volto da una persona che chiedeva di prendere il bus anche senza biglietto e comunque già che il bus era ripartito ha bloccato il servizio, ha dato una testata in faccia al nostro conducente e non solo, non contento, i giorni seguenti è venuto a cercarlo nei nostri posti di lavoro per nuove rappresaglie. Questa è l'ultima aggressione in ordine di tempo denunciata dai sindacati dei trasporti pubblici nell'Aretino. Un altro episodio era accaduto in primavera, una donna controllore aggredita nel treno regionale che da Firenze arriva ad Arezzo. Le aggressioni fisiche sono indubbiamente gli episodi più gravi ma non si tratta solo di questo. Si va dalla violenza verbale all'abbandono di siringhe fino al danneggiamento dei mezzi. Ma allora dai rimproveri dalla gente in Corriera perché se passi 30 secondi prima, se passi in ritardo poi, la gente si accanisce perché la prima figura che trova dell'azienda è l'autista. C'è stato i cambi delle linee, l'anno scorso abbiamo avuto delle situazioni che la gente non le capiva, la toccava spiegare e nonostante tutto ci assalivano, ci trattavano male. Lanciano le bottiglie di vetro. Sì, è successo anche a me, un ragazzo che faceva i versi in Guido Monaco, faceva il simpatico per far vedere che era bravo perché passava quando passava la Corriera, è andata bene che non l'ho preso, però mi è fuggito ieri e mi ha dato una botta sul vetro laterale che i vetri laterali delle Corriere non sono infrangibili o blindati e ha spaccato il vetro e ha scappato e non c'è stato verso di prenderlo. Adesso i sindacati, GGL Cisle Will, dicono basta e chiedono di essere ascoltati dalle istituzioni e dall'azienda Autolinea Toscane. Abbiamo scritto già alla prefettura, non abbiamo avuto una risposta concreta come vogliamo perché questo è un susseguirsi di aggressioni che comunque si aveva bloccato. Noi chiediamo anche che l'azienda comunque sia a faccia del suo, abbiamo bisogno di verifiche per tutelare sia non solo i conducenti ma anche gli utenti che pagano. Noi chiediamo anche sotto quello che è l'aspetto regionale una cabina di regia anche a livello provinciale, ovvero con tutte le istituzioni e quindi parlo di forze politiche, forze d'ordine, aziende, sindacati rappresentanti e lavoratori per monitorare costantemente a livello temporale questo fenomeno. Perché una persona che monta in corriera, che è malintenzionata, fa finta di essere tranquilla e poi dà una coltellata o un labrone o un cazzotto nel viso all'autista, quella corriera si è ferma è un conto, ma se è in viaggio che va dentro un fosso, dentro un burrone cosa succede? Un inseguimento da brivido tra il Valdarno e Arezzo che si è concluso con due arresti da parte della polizia. Vediamo il servizio. Prima il furto, poi la fuga, il posto di blocco, lo sparo di pistola e l'inseguimento è finito con l'arresto di due persone, il rocambolesco episodio che risale a due giorni fa. A finire in manette sono stati due uomini di origini campane, un quarantenne e un ventenne. L'auto sulla quale viaggiavano ha messo carburante alla stazione di servizio di Peretola e non ha pagato. Al casello Valdarno della 1 non si sono fermati all'alta della polizia e sono poi scappati uscendo dall'autosole. È nato qui l'inseguimento che poi ha avuto anche speronamenti ripetuti alle macchine della polizia. La fuga è continuata in direzione Levane e Montalto. I due hanno quindi lanciato dal finestrino una cassetta di attrezzi. All'altezza di Poggio Bagnoli l'auto si è incastrata in un'aiuola. Il poliziotto si è quindi avvicinato ma i malviventi hanno ingranato la retromarcia cercando di investirlo. A quel punto l'agente ha sparato un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. La fuga è poi terminata nel piazzare di un distributore ad indicatore. All'interno dell'auto i due avevano ancora materiale rubato la mattina stessa in Emilia Romagna. Arrestati e processati per direttissima, per uno dei due è scattata la misura degli arresti domiciliari. I carabinieri di Arezzo invece dopo un lungo inseguimento hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 30 grammi di eroina. È successo lo scorso martedì tra le vie del centro storico. L'uomo, 25enne, era stato notato in piazza Sant'Agostino. Alla vista dei militari ha tentato la fuga gettando in terra un calzino che una volta recuperato è risultato contenere ben 18 dosi di eroina già pronte per la vendita. Sul posto sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri in divisa in abiti civili che hanno fermato il 25enne sorpreso con altre tre dosi. Complessivamente sono stati così sequestrati 30 grammi di droga e 475 euro in contanti. Il giudice della Tribunale di Arezzo ha convalidato l'arresto. Un furto invece di rame nella cortonese, nel cimitero di Sant'Eusebio di Tavernelle. A denunciare l'episodio tramite social è lo stesso primo cittadino Luciano Meoli. Buonasera, mi trovo presso il cimitero di Sant'Eusebio di Tavernelle dove dei mascalzoni hanno divelto e portato via le docce in rame, come pure le calate, togliendoli evidentemente dalle proprie sciarpe di ancoraggio, producendo danni evidenti. Un vero furto portato avanti da persone che definirle mascalzoni è poco e mi auguro che possano essere presto rintracciati. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria. A cinque anni di distanza dalla tragedia all'archivio di Stato, questa mattina si è tornati in aula per il processo per la morte dei due impiegati. A cinque anni dalla tragedia dell'archivio di Stato, questa mattina è ripreso il processo per le morti di Piero Bruni e Filippo Bagni, i due impiegati uccisi da una fuoriuscita di gas argon in colore e in odore, ma che rese l'atmosfera priva di ossigeno. Conclusa l'audizione dei testi della pubblica accusa, rappresentata in aula dalla PM, Laura Taddei, è stato il turno dell'esame degli imputati. Primi a prendere parola i funzionari dell'Igeam, società romana, cui erano affidate le verifiche di sicurezza e i corsi di formazione. Non hanno invece parlato l'allora direttore Claudio Saviotti e il suo predecessore Antonella D'Agostino. Per scelta processuale hanno preferito prendere questa strada. Saviotti aveva già presentato una memoria al gruppo in udienza preliminare, sostenendo che alcune specifiche responsabilità avrebbero dovuto essere addebitate al Ministero, facendo così venire meno la condizione di datore di lavoro. Serve a dimostrare che c'è una gerarchia superiore che doveva avere il controllo diretto della situazione. Controllo che si esplicava nella non autonomia da parte dell'archivio in tema di spesa e quindi ogni spesa piccola, grande che sia, doveva essere richiesta e autorizzata da parte del Ministero. Quindi questo vuol dire che il datore di lavoro non poteva essere il direttore il quale era un semplice funzionario. Sono in tutto 11 le persone sedute sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio colposo plurimo. I consulenti della Procura nelle scorse udienze avevano sottolineato quelle che ritengono essere state le carenze dell'impianto antincendio che avrebbero causato il dramma, come la mancanza di una conduttura che portasse il gas di scarico all'esterno e il montaggio errato della valvola di rottura. Ancora cronaca giudiziaria, si aprirà il 17 novembre il processo nei confronti del 55enne di Piandisco che con la sua auto travolse ed uccise Vanessa Bonatti in via del Varco a Vaggio nel comune di Castelfranco. Piandisco, l'uomo ha chiesto il reito abbreviato, la seduta si svolgerà in camera di consiglio, dunque in forma privata, avvalendosi del fascicolo della PM, costituito dalle prove acquisite dai carabinieri. La scelta del rito abbreviato comporta la diminuzione di un terzo della pena eventualmente inflitta dalla giovane. L'episodio risale allo scorso aprile. E restiamo in Val d'Arno, dove invece arrivano buone notizie per la IWV di San Giovanni. Oggi è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Arezzo in apertura dopo un minuto di raccoglimento richiesto dal Presidente. Sarà salvaguardata una buona quantità appunto di personale dipendente attualmente in forza all'IWV, per cui, come dire, è un raggio di sole che per noi è sicuramente una notizia importantissima. Si apre una nuova era per l'industria vetraria valdarnese, che nei mesi scorsi aveva avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa dell'impatto insostenibile dei costi dell'energia. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha infatti autorizzato l'affitto del ramo d'azienda a tradizioni associate di Diego Toscani per il rilancio dello stabilimento. Si sta aprendo un nuovo capitolo e in questo senso va detto che il commissario che si è insediato alla fine di giugno ha lavorato in maniera stretta con coloro che appunto hanno avuto fino a poco tempo fa anche incarichi di responsabilità all'interno della cooperativa. Ed è una notizia di pochi giorni fa, il fatto che il Ministero ha dato il via all'affitto del ramo d'azienda. C'è un soggetto che chiaramente ha fatto una proposta e che poi sarà quello che diventerà appunto protagonista di questa nuova avventura. Da informazioni che sono riuscita a mettere insieme e che ho poi comuniato il Consiglio Comunale un paio di giorni fa, a inizio anno ci sarà molto probabilmente l'inizio della nuova produzione. Il prossimo step sarà l'accordo che sarà firmato tra Ministero e tradizioni associate. Oggi è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Arezzo. In apertura un minuto di raccoglimento richiesto dal presidente Luca Stella in memoria dell'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano. Poi ha preso la parola l'assessore Giovanna Carlettini per la commemorazione di una dipendente recentemente scomparsa, Stefania Lachini. E il sindaco, sempre questa mattina, ha ricevuto in consiglio Alessandro Dioni, il giovane boy scout che lo scorso luglio salvò la vita ad una cinquantenne. Ad Alessandro è stato consegnato il cavallino, la spila distintivo del Comune di Arezzo per il gesto eroico riconosciuto tale dalla stessa Presidenza della Repubblica. E nell'ultima seduta la Giunta invece ha approvato il progetto per la realizzazione della palestra a servizio della scuola media Piero della Francesca. L'intervento per esigenze finanziarie dovuta al reperimento delle risorse sarà suddiviso in due lotti funzionali e la realizzazione della palestra rientra nel primo che prevede appunto la realizzazione di una struttura con dimensioni interne per complessivi circa 750 metri quadrati. L'investimento del primo lotto sarà pari a 450 mila euro, una somma finanziata in parte dalla Regione Toscana con 300 mila euro e i restanti dal Comune Aretino. Voltiamo pagina adesso, anche ad Arezzo arriva infatti la possibilità di frequentare il corso obbligatorio per titolari e detti di centri scommesse e più in generale di bar, tabaccherie e altre attività che hanno spazi per il gioco convincite in denaro. Ad organizzarlo è la Confcommercio che permette così agli operatori del settore di mettersi in regola per tempo con la nuova normativa regionale che prevede questo obbligo allo scopo di aumentare la conoscenza e la sensibilità nei confronti delle azzardopatie, oltre che per prevenire e contrastare il gioco illegale. E restiamo ad Arezzo, al Teatro Petrarca, è tutto pronto per la quarta edizione dell'Arezzo Jutta Music Fest. Quattro appuntamenti gratuiti per gli under 26 al Teatro Petrarca, il 30 settembre, l'8, il 14 e il 22 ottobre, per una manifestazione di altissimo livello internazionale. Torna così l'Arezzo Jutta Music Festival che propone l'interpretazione della grande musica classica da parte di giovani artisti di talento. Sono molto soddisfatto, anche per quest'anno, la quarta edizione siamo riusciti a proporre artisti di altissimo livello e anche un programma estremamente vari, un programma che propone una scelta vastissima al pubblico aretino. Si va da Beethoven a Brahms, da Stravinsky a Casella, da Ravella a Rossini, per cui la scelta musicale è enorme. Il livello è altissimo e quest'anno sono particolarmente felice di essere riuscito ad aggiungere una proposta in più all'interno del nostro cartellone, che è la proposta lirica, la proposta cameristica lirica che vedrà ad Arezzo Claudia Pavone, una fantastica cantante, uno dei soprani più apprezzati della sua generazione, che prenderà una pausa dalle recite di Traviata la Fenice, verrà ad Arezzo a cantare e farà anche, tra gli altri brani, una piccola dedica ad Arezzo che ci tenevo ad aggiungere, che sono i tre sonnetti del Petrarca di Listo. Non solo musica a teatro ma anche a scuola, si rinnova infatti la collaborazione instaurata con alcuni plessi scolastici della città. Lo scopo era questo, quello di portare i ragazzi delle superiori, degli ultimi anni delle superiori, o comunque i giovani in generale, ad apprezzare la musica classica. Musica classica che in genere viene percepita come qualche cosa di appartenenza matura. In realtà con lo Youth Music Festival riusciamo ad attrarre i ragazzi, a far capire loro come si ascolta un concerto, quali sono le parti che vengono svolte in un concerto. E questo viene fatto attraverso la performance di artisti giovani, che quindi parlano la stessa lingua dei ragazzi e in qualche modo sono loro vicini da un punto di vista culturale, oltre che generazionale. Un cartellone che comunque è accessibile a tutti, non solo ai giovani, perché il biglietto è gratuito per i giovani sotto i 26 anni, ma anche chi non ha più 26 anni trova dei biglietti veramente a prezzi bassissimi ed è una grande occasione per godersi dei concerti che sono invidiati anche in altre città d'Italia, sarebbero di primo richiamo in qualsiasi stagione. Si è invece conclusa la decima edizione del premio Starlight International Cinema Award, come sempre all'interno della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che ha assegnato numerosi riconoscimenti al mondo del cinema, ma anche alla narrativa. Un premio è andato alla retina Barbara Fabroni e al suo ultimo libro. Psicologa, psicoterapeuta, criminologa, giornalista, autrice di testi scientifici, scrittrice, oltre che volto noto della televisione e speaker radiofonica. Barbara Fabroni ha presentato ad Arezzo per la prima volta il suo romanzo L'amore forse, edito nel 2015, recentemente rivisto e vincitore del premio Starlight alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un romanzo che segna una tappa significativa della mia vita, è nato in un momento particolare e adesso è arrivato questo premio, lo Starlight Cinema Award, alla Mostra del Cinema di Venezia che chiaramente mi ha riempito di gioia. Il libro racconta la storia di Charlotte, una giovane donna che cerca di riprendere in mano la propria vita dopo aver scoperto il tradimento del suo grande amore. Un racconto in flashback intenso e pregnante di emozioni e ricordi, di progetti e decisioni. Si guarda indietro soprattutto perché per fare in modo che riusciamo a vivere bene il presente e progettare un futuro nuovo, altrimenti se noi non riusciamo ad elaborare il passato non riusciamo a stare nel presente e il futuro è impossibile. Lo Starlight International Cinema Awards, che ha celebrato nel 2023 la sua decima edizione, è stato fondato e prodotto da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria. Tanti film sono sicuramente realizzati da un'ispirazione a un libro oppure dai diritti di un libro proprio acquisiti e quindi trasformati in una sceneggiatura. Chissà che questa di Barbara Fabroni, nella quale abbiamo creduto, soprattutto per la profondità anche dei caratteri dei personaggi all'interno della storia, lei è una psicoterapeuta, ha evidentemente sviluppato tutta quella parte dei personaggi e quindi crediamo molto in questa storia. Magari quest'anno è stato il premio di un'opera letteraria e spero che possa diventare una futura sceneggiatura. Sarà invece il regista Pupia Vati a ricevere il premio Marzocco alla Carriera alla 41esima edizione del Valdarno Cinema Film Festival, in programma dal 3 al 7 ottobre a San Giovanni Valdarno. Il regista sarà presente sabato 7 ottobre al Cinema Teatro Masaccio per ritirare il premio e presentare La Casa delle Finestre che Ridono. Nel 1977 proiettato adesso in versione restaurata a 4K in collaborazione con la Cineteca di Bologna. E adesso lo sport Casentino Bike arriva alla trentesima edizione, un compleanno speciale che coincide con quello del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. L'8 ottobre sarà così l'occasione per festeggiare insieme appassionati amanti delle due ruote green entrando nel cuore del parco sui tracciati aperti in esclusiva per questa manifestazione. Due percorsi storici come il Sentiero dei Tedeschi e il Passaggio del Lupo a Moggiona. Tre i percorsi di Marathon da 64 km, la Gran Fondo da 54 km ma c'è anche una non competitiva da 25 km. Adesso il tennis a giotto scende in campo al primo turno di serie A2. La prima squadra maschile del Circo, la Retino, romperà il ghiaccio domenica 1 ottobre con una trasferta a Roma dove sfiderà il Ferratella Sporting Club in una sfida che segna l'atteso ritorno nel secondo più importante campionato nazionale di tennis. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie 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 Grazie